Lo dà con il tempo, senti che non passa il tempo Nelle due puntate, nei due incontri precedenti abbiamo soprattutto sottolineato l'esperienza della trasfigurazione come esperienza che è necessaria in qualche maniera perché ha consentito agli apostoli, a tre apostoli, di essere testimoni della realtà più importante che è quella della vita eterna è stato importante per loro fare questa esperienza perché Gesù già prospettava che il cammino proprio per arrivare alla vita vera alla vita perfetta attraverso la parola vi ricordate il Signore discuteva nel monte Tabor con la legge e i profeti Mosè ed Elia e questo aveva il significato di... parlava dell'Esodo pure con Mosè ed Elia l'Esodo va inteso un po' come il battesimo nella messa di oggi come una dolorosa uscita dal mondo del male per realizzare il vero bene dal mondo della schiavitù per realizzare la vera vita noi ci troviamo in una condizione in cui c'è bisogno di questo esodo, di questa uscita noi abbiamo bisogno di uscire da tante cose che ci condizionano per essere veramente liberi e il Signore ha fatto fare l'esperienza ai tre discepoli che portò sul monte Tabor di sperimentare qual è lo scopo di assaggiare il punto finale della nostra vita in qualche maniera anche noi abbiamo bisogno di contemplare le cose ultime per avere in mente qual è lo scopo della nostra vita cioè perché la nostra vita ha uno scopo il nostro cammino ha una sua direzione ha un compimento è come uno, dice Gesù, che coltiva la vigna perché già immagina quale sarà il raccolto se un contadino non sapesse qual è il raccolto della sua vigna non sarebbe manco motivato per andare nella vigna a lavorare solo che lui ha il desiderio di raccogliere quell'uva di raccogliere quel frutto e allora Gesù dice la vigna si coltiva tutto l'anno perché ci sia il frutto dell'uva e ci sia la vendemmia che dà ragione di tutta la nostra fatica e c'è un passo biblico che di fatto Marco 9 prima di far vedere il paradiso Gesù dice così Marco diceva loro in verità io vi dico vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di avere visto giungere il regno di Dio nella sua potenza sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni li condusse su un alto monte in disparte loro soli e fu trasfigurato davanti a loro quindi lui preannuncia a questi discepoli che avrebbero visto il regno di Dio questo è molto bello il fatto che Gesù gliel'annuncia prima e dice spostolo un attimo perché tutta sta aria troppa aria troppa grazia a Sant'Antonio meglio mi invidio capace un malanno qualche cosa no perché sai troppo diretto no più lontano più lontano preferisco il caldo perché scusate perché no tanto potere troppo diretto è un po' perché sono sudato ma vi giudare diventa un problema e allora vi dicevo è molto importante il fatto che Gesù gliel'annuncia prima prima gli dice alcuni di voi prima parla con tutti i discepoli alcuni di voi prima di morire vedranno il regno di Dio e questo per questo sapete la nostra fede è anche apostolica perché è l'esperienza degli apostoli che qualifica poi l'annuncio della salvezza il Signore ha voluto che la salvezza fosse annunciata da testimoni testimoni del paradiso testimoni della sua morte testimoni della sua risurrezione testimoni autorevoli della dell'opera di Dio e questo è molto importante questo brano poi il fatto di collegare il paradiso il regno di Dio con la sofferenza questo è un altro aspetto importante le cose più alte le cose più belle che il Signore vuole realizzare le realizza attraverso una strada che noi non avremmo mai scelto le realizza attraverso la strada della croce questo diventa per noi anche una provocazione perché noi vorremmo raggiungere le cose più belle per una strada più facile una strada più comoda invece Gesù raggiunge le cose più alte la perfezione la felicità attraverso una strada che valorizza anche le cose più brutte e c'è un passo biblico famoso che io vi presento 1 Corinthians 1 Corinthians 1 guardate San Paolo che cosa dice a questo proposito lui che era fariseo non era abituato al diciamo al messaggio anzi la mentalità dei farisei era totalmente opposta per molti aspetti a quella di Gesù Cristo che poi presenterà quindi per questo prima San Paolo prima della conversione San Paolo era convinto che Gesù fosse un imbroglione e i suoi discepoli fossero altrettanto imbroglioni come Gesù che avessero falsificato la religione ebraica poi sulla strada di Damasco si accorge che era totalmente all'opposto la situazione che Gesù invece aveva realizzato la vera salvezza la verità della salvezza mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza noi invece annunciamo Cristo crocifisso scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini quindi la sapienza di Dio in qualche maniera a noi sembra una cosa pazza una cosa strana perché? perché noi non ci arriviamo a capire immediatamente quello che Dio sta facendo i piani di Dio sono talmente perfetti e talmente alti che se non ci aiuta lo Spirito Santo se non ci lasciamo aiutare dallo Spirito Santo a noi sembrano pazzie infatti ci sono persone che perdono la fede proprio perché si mettono a ragionare sulle cose di Dio in effetti i ragionamenti sono sempre umani le cose di Dio sono superiori alla mente umana perché una cosa è accogliere la rivelazione di Dio perché illumini la mente una cosa è voler capire con la mente le cose di Dio l'atteggiamento giusto è di farci illuminare dalle cose di Dio in modo che la nostra mente sia illuminata dalla sapienza di Dio e così noi capiamo le cose come le capisce Dio mentre tante persone vorrebbero capire le cose di Dio con le loro forze no è sempre lui che ci deve aiutare lui che ci manda lo Spirito che ci illumina e con la sua luce noi vediamo una luce nuova capiamo cose che umanamente non possiamo capire questa è una cosetta che io vi pregherei di coltivare nel nostro cuore quando noi nella preghiera che abbiamo fatto prima diciamo signore senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa senza di te non possiamo fare niente significa che senza lo Spirito Santo noi restiamo nei limiti dell'umano i limiti dell'umano non riescono a percepire la grandezza di Dio e quindi se una persona non si apre a cose più grandi di lui con la fede e allora è un problema serio perché con la nostra mente noi possiamo capire le cose umane ma la nostra mente non può capire cose superiori a lui siccome le cose di Dio sono superiori a noi abbiamo bisogno che lui stesso ci aiuti ad aprirci gli orizzonti una persona quindi che non si lascia illuminare da Dio rimane sempre nell'ambito umano possiamo dire all'interno della stratosfera nelle cose di questo mondo ma le cose di Dio vengono da un altro mondo e illuminano questo mondo le cose di Dio sono una luce per noi per questo è importante per noi capire come dice San Paolo i giudei erano religiosi ma molto umani pensavano che la religione fosse un modo di rapportarsi con Dio fondato sulla fedeltà a una legge quindi loro dicevano c'è una legge io sarò gradito a Dio se rispetto la sua legge il che non è che è sbagliato è insufficiente non è non basta la legge non può cambiare il mondo San Paolo dirà poi lui che era prima fariseo la legge da sola mi può far capire quanto io sono peccatore che non so osservare le cose buone del Signore ma se uno è cattivo può osservare la legge quanto vuole resta cattivo se una persona è egoista può osservare tutte le leggi ma resta egoista voi vedete anche per quanto riguarda le leggi dello Stato una persona se è cattiva può rispettare le leggi dello Stato ed fa bene ma resta cattivo la legge da sola non cambia la mente non cambia il cuore infatti voi vedete anche nell'educazione quando l'educazione non riesce a sviluppare la persona tu imponi delle leggi ai ragazzi però se queste leggi non riescono a farli progredire appena finisce la legge appena finisce il collegio appena finisce non so quel periodo educativo poi le persone anzi non vogliono sapere più perché l'hanno vissuto come una costrizione e invece lo scopo dell'educazione è quello attraverso delle leggi di sviluppare la persona in modo che quando finirà il tempo dell'educazione una persona sia evoluta se non si riesce a fare questo passaggio tu puoi imporre una legge per un anno due anni tre anni ma appena finisce è un po' come il militare dice deve finire questo corso tanta gente per esempio vi ricordate negli anni 70 80 anche prima mandava i figli in un collegio se gli educatori non riuscivano a educare cioè a tirar fuori il bene che succedeva che quei ragazzi andavano stavano da quattro anni cinque anni dopo quei cinque anni di chiamiamo così di educazione forzata non ne potevano più uscivano ed erano peggio di prima la maggior parte non ne voleva sapere più sapete quanta gente c'è che mi dice padre per favore a chiesa non ci fai più perché quando eri in collegio mi buttavano tutti i mattini sei in mezza a chiesa e in chiesa tutte le mattine c'era una legge per cui e ora non ne vogliono sapere più perché di fatto non si raggiungeva il cambiamento della propria vita diventava solo un'oppressione poi purtroppo siamo passati all'altro versante cioè allora non educhiamo proprio e ci sono altri problemi cioè il segreto è invece che le norme dice San Paolo possono diventare strumento di grazia cioè che una norma mi consenta di vivere un amore più grande quindi se io capisco che la norma mettiamo la norma di mettermi la cintura di sicurezza serve per un comportamento più civile e per salvaguardare la vita io non mi metto la cintura di sicurezza perché se no mi fanno una contravenzione mi metto la cintura di sicurezza perché è una norma di sicurezza e quindi oppure cambio le gomme quando diciamo prima che si logorano completamente perché so che è una norma di sicurezza allora se gli do un valore che va oltre la legge il rispetto della legge mi porta a una civiltà più grande sempre se la legge è giusta e se io invece la piglio solo come una legge dal punto di vista legalistico io non mi evolvo proprio perché appena posso trasgredire trasgredisco e quindi non mi interessa è una cosetta un po' intrigante però è importante anche dirvela c'è un altro passo in cui Gesù per favorire Gesù risorto per favorire la comprensione di questo mistero della croce che aveva fatto impappinare i suoi discepoli sulla via di Emmaus è costretto a camminare con loro vi ricordate Luca capitolo 24 i discepoli di Emmaus vedono morire Gesù e si scoraggiano e tornano a casa stanno tornando a casa dicendo noi siamo rimasti delusi perché speravamo in Gesù ma l'abbiamo visto morire quindi il mistero lo scandalo della croce li ha messi in crisi completamente loro hanno pensato che vedendo morire Gesù tutto ormai era crollato Gesù è costretto a intervenire per spiegare loro le cose se prendiamo questo passo disse loro ai discepoli che erano delusi stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti vedete ancora una volta Mosè e i profeti Mosè ed Elia spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui quindi Gesù prepara il terreno per far capire loro che per realizzare cose grandi l'opera di Dio bisogna passare attraverso una grande sofferenza e questo è una cosa importante tanto è vero che loro l'avevano già sentito però non l'avevano incamerato e Gesù dopo la risurrezione è costretto a rispiegare le cose e a dire che non è un incidente la morte di Gesù è una scelta Gesù ha detto io nessuno mi toglie la vita io la do e me la riprendo quindi Gesù non è vittima nel senso che è stato un poveraccio Gesù è una persona che si è consegnato il padre lo ha consegnato agli uomini però poi ha ripreso la vita perché Gesù è padrone della vita insieme al padre e allo spirito santo quindi quello che è il male il Signore lo può far diventare se noi collaboriamo con Lui l'adempimento di un progetto di salvezza cioè gli uomini sono liberi siamo liberi e commettiamo anche il male Gesù è stato odiato e il Sinedrio lo ha condannato a morte ma il Signore ha vissuto questa esperienza facendola rientrare nel suo progetto di salvezza il potere di Dio è questo loro pensavano invece che il potere di Dio sarebbe stato quello di cancellare i nemici per loro la salvezza sarebbe stata una vittoria un annientamento dei nemici invece il Signore quando è venuto a farsi uomo ha vinto il male morendo Lui per salvare tutti pure i Suoi nemici io non so se riesco adesso a inquacciarvi la cosa in una logica umana per gli ebrei l'annuncio della salvezza attraverso il Messia era inteso come il fatto che veniva da parte di Dio il Messia l'inviato di Dio l'unto del Signore e avrebbe sconfitto i nemici annientandoli invece il Signore quando è venuto ha dato Lui la vita anche per i Suoi nemici quindi la vittoria non è distruggendo i nemici ma la vittoria vera è salvando pure le persone cattive se si lasciano salvare questo è un concetto di vittoria sapete che certe volte non l'abbiamo noi cristiani è chiaro cioè certe volte quando noi subiamo un'offesa quando subiamo un male noi dobbiamo capire che rivolgendoci a Dio Dio vuole salvare non solo noi ma pure quello che ci ha fatto del male mentre noi diciamo Signore salva me e distruggia l'auce però questo ci cadiamo tutti se non stiamo attenti perché noi vediamo il male che riceviamo e invece il Signore ha dimostrato con Gesù Cristo che vuole salvare noi ci lascia liberi a tutti ma vuole salvare pure chi fa il male è morto per i Suoi nemici quindi se uno non entra nell'ottica di Dio sapete ci resta male uno resta deluso di Dio dice ma come il Signore no il Signore stai tranquillo ti aiuta però renditi conto che vuole aiutare pure chi ti sta facendo del male perché è pure lui suo figlio non so se certo vi ricordate il figlio prodigo un fratello se la prende col suo padre perché perdona l'altro fratello quindi pensate che cattiveria chi due e mio frate torna e ci resto male perché mio padre perdona mio fratello perché voleva che suo frate non tornava proprio perché già si era mangiato metà dell'eredità è giusto quello là che ci restò l'auce a metà di fatto egoisticamente ormai lo dava per morto a suo fratello quindi Piddu era ormai scusate la frase non voglio essere cattivo però Piddu rafrescò perché Piddu si pigliò la metà della allora vi stavo dicendo sembra un po' strano teoricamente ma non è strano affatto il fatto che un fratello si dispiace si turba perché il padre fa una festa per l'altro fratello che era come morto era morto ed è tornato in vita e lo consideravano ormai come se fosse morto invece inaspettatamente torna a casa questo fratello invece di rallegrarsi che suo fratello era tornato dice ehi i cose cominciano da capo ora quindi gli interessi tante volte prendono il sopravvento sulla persona è più importante certe volte fare il proprio tornaconto che valorizzare una persona questa è una cosa purtroppo che dobbiamo ammettere nella natura umana il fatto di avere sempre un rapporto d'amore interessato cioè il fatto che io ricevo un beneficio io ci ricavo una soddisfazione in un rapporto d'amore se diventa problematico un rapporto d'amore tante volte rischia di essere distrutto infatti poi il padre deve dire a questo figlio più grande figlio mio tu puoi pure avere ragione ma tuo fratello era come morto ed è tornato in vita e io dovevo festeggiare per forza non potevo mettermi dalla tua parte perché quello è mio figlio cioè se non fosse tornato tu saresti stato più tranquillo a quanto pare si è turbato perché è tornato in genere uno si è visto a turbare perché non torna ma quello invece si era dispiaciuto che suo fratello era tornato a disturbare sono cosette un po' un po' pesanti io lo capisco però purtroppo la vita certe volte si misura su queste cose sull'interesse sul mi conviene non mi conviene sul fatto che uno è più furbo dell'altro che l'altro considera che si deve difendere dal fratello si deve difendere dalle altre cose è come se ognuno fosse in qualche maniera un potenziale avversario mio e io mi devo difendere dagli altri arriva Gesù Cristo in un passo che io qua non ho scritto vi ricordate Gesù che dice pur di avere una comunione con l'altro se uno ti chiede di fare un miglio fanne due se uno ti chiede la camicia dagli anche la tunica cioè perdici pur di avere una relazione positiva ora Gesù ci dice a proposito della croce del male guardate superate la mentalità degli ebrei che vogliono sempre segni miracoli gli ebrei vogliono sempre segni cioè miracoli i greci invece erano più intellettuali volevano i ragionamenti la sapienza umana quello che diremmo noi la cultura ecco quindi quelli gli ebrei si appoggiavano ai miracoli Dio deve fare miracoli altrimenti non erano contenti è come se Dio dovesse fare sempre miracoli e quindi se non facesse miracoli se non ci fa un miracolo noi non siamo contenti i greci invece erano molto acculturati erano filosofi e allora sapete qualche anche secolo quattro secoli prima di Gesù Cristo già la Grecia aveva i più grandi filosofi Platone Aristotele tutti questi questi qua e di fatto loro credevano che la cultura bastasse per salvare l'uomo quindi nei miracoli e manco la cultura dice San Paolo ma la croce di Gesù vince il male ed è vero cioè non si può vincere il male attraverso mezzi umani o anche un intervento miracolistico si vince attraverso il mistero della Pasqua cioè la trasformazione del male in un bene per opera dello Spirito Santo cioè lo Spirito Santo ha il potere di trasformare il chicco di grano che marcisce in una spiga andiamo avanti Matteo 16 che c'è Matteo 16 mi pare Gesù giunto questo era possiamo dire il punto da cui avevamo iniziato il discorso Gesù giunto nella regione di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo risposero alcuni dicono Giovanni il Battista altri Elia altri Geremia o qualcuno dei profeti disse loro ma voi chi dite che io sia rispose Simon Pietro tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente e Gesù gli disse beato sei tu Simone figlio di Giona perché né carne né sangue te lo hanno rivelato ma il padre mio che è nei cieli e io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non preverranno su di esse vedete Gesù Cristo vedendo che il padre aveva illuminato Pietro tra tutti i dodici giustamente lo prende come il segno che Dio padre gli dà perché Pietro che si chiamava Simone e lui da ora in poi lo chiama Pietra in italiano da noi c'è sta differenza Pietro tu sei una pietra però per gli ebrei era la stessa parola tu sei pietra e su te come su una pietra edificherò la mia chiesa quindi lo sceglie San Pietro come colui che ha capito per opera del padre chi veramente sia Gesù perché le persone vedevano un uomo ma non riuscivano a percepire chi fosse veramente questo Gesù anche oggi non è che è facile se tu chiedi alle persone secondo te chi è Gesù alcuni pensano che è un profeta alcuni pensano che è un grande uomo alcuni pensano però è diverso l'identità di Gesù non si può qualificare neanche solo con questa espressione questa è una delle espressioni tu sei il Cristo cioè il Messia la stessa parola è Cristo è in greco Christos Messia è in ebraico e vuol dire colui che Dio ha mandato l'unto di Dio cioè la persona incaricata da Dio che è già una una forma di definizione buona Gesù non la usa mai per sé non la usa mai per sé Gesù usa altre espressioni intanto credo che sia importante capire proprio che Gesù stesso va chiarendo chi è e hanno dovuto aspettare tanto tempo per chiarire veramente chi fosse Gesù intanto vedete ci sono dei titoli i titoli principali e fondamentali per definire chi è Gesù i più importanti sono tre Cristo Christos Messia che è la stessa cosa Kyrios cioè sarebbe il Signore il Signore e questo qua tante volte lo usa San Giovanni però poi non si usa più oppure figlio di Dio il figlio di Dio dicono tre cose diverse e tutte e tre sono pertinenti però quindi non è strano il fatto che Gesù non si può circoscrivere in una definizione perché Gesù contiene tante definizioni e le contiene tutte anzi le supera perché Gesù è il Messia ma è oltre il Messia Gesù è il Signore ma va oltre la Signoria di Dio perché è anche uomo perché Kyrios Signore significa solo la sua identità divina ma vi ricordate che Gesù è Dio che si è fatto uomo e quindi è oltre il Signore possiamo dire un Dio che è anche uomo poi è figlio di Dio sì è figlio di Dio ma anche l'espressione figlio di Dio è un po' delicata perché se andiamo oltre guardate nel 325 il primo concilio di Nicea ha detto che Gesù è quindi ci sono venuti tre secoli circa per capire che Gesù è della stessa sostanza del Padre homo iusios cioè della stessa sostanza del Padre che poi la parola sostanza è una parola umana che cerchiamo di utilizzare per capirci cioè come per dire ci sono voluti tre secoli per capire che Gesù Cristo è come Dio Padre della sostanza sostanza del Padre e insieme però sono sempre in comunione con lo Spirito Santo e formano un solo Dio che è una cosa molto ha sconvolto il mondo questo fatto perché il concetto di Dio è stato chiarito ma è stato possiamo dire è nuovo per molti aspetti è nuovo cioè che Dio non è un monarca è una famiglia è che Dio è un Padre per questo Gesù è vero figlio di Dio però la stessa dignità del Padre non è inferiore al Padre per noi per esempio il fatto che Gesù sia figlio di Dio ma della stessa sostanza del Padre uguale al Padre nella dignità divina e in comunione col Padre significa che Padre e Figlio hanno la stessa dignità mentre loro pensavano partendo dalle cose umane che un Padre avesse un'autorità superiore a un Figlio e la cosa invece sapete è innovativa il fatto che Gesù è figlio è il Figlio amato ma non vale meno del Padre il Figlio è della sostanza sostanza del Padre Padre, Figlio e Spirito Santo hanno la stessa natura divina formano un solo Dio sono sempre in comunione non sono tre persone staccate sono tre persone che formano un solo Dio e questa rivelazione per esempio ha dato molto al concetto di persona le relazioni è come se dicessimo la relazione il ruolo del Padre e del Figlio sono già nella vita divina cioè il concetto di Padre non è una realtà umana il concetto di Padre è una realtà che vive Dio e che noi uomini impariamo da Dio riceviamo da Dio quindi essere padre essere madre essere figlio non è una possiamo dire un'esigenza umana no no è un'esigenza umana che viene però dalla vita di Dio è Dio che è padre che è madre che è figlio e che ci dà la possibilità di diventare anche noi padre madre figli e che il figlio non si sente inferiore al padre quindi non ha nessun complesso mentre tante volte succede che un figlio si ribella al padre qua sulla terra un figlio non ne può più di stare sotto mezzo al padre nella vita divina non è così il figlio è eternamente il figlio ma si sente realizzato come figlio si sente amato anzi quando parla di suo padre Gesù voi pensate che secondo me sarà suonato in maniera strana per le persone che udivano Gesù quando diceva una persona a trent'anni perché cominciò a predicare a trent'anni Gesù disse io ubbidisco sempre a mio padre se una voi incontraste fuori una persona un trentenne un trentenne che vi dice guarda io faccio sempre quello che dice mio padre noi c'è che pensiamo questo è un buon boccione che non è capace non è maturato e ancora vive dipendente da suo padre noi pensiamo questo e invece Gesù Cristo vuole aprire gli orizzonti verso un'altra relazione è nel mondo del peccato che il rapporto padre figlio è conflittuale ma nel mondo di Dio perfetto il rapporto padre figlio rimane ideale perfetto i rapporti le relazioni in questo mondo sono relazioni squilibrate da salvare ferite sono fonte di dolore di sottomissione di umiliazioni ma nel mondo di Dio le relazioni padre figlio sono ideali perfette quando arriveremo in paradiso noi saremo figli nel figlio noi entriamo nella Trinità come figli per la porta del figlio vi ricordo che noi siamo battezzati come figli per questo diciamo padre nostro perché noi siamo ci identifichiamo col figlio infatti il fatto che la Bibbia dice che noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza sua noi l'abbiamo capito qual era l'immagine e somiglianza quando è nato il figlio di Dio Gesù è Gesù che è il modello per cui siamo stati creati quando Dio ci ha creato e c'è scritto li creò a immagine e somiglianza uno prima di Gesù Cristo dice qual è sta immagine sta somiglianza quando è nato Gesù soprattutto quando è risorto cioè ha manifestato la sua gloria allora abbiamo capito che l'immagine e somiglianza era Gesù è Gesù il nostro riferimento è Gesù che ci realizza come figli è una persona pure se ha 80 anni si sente figlio di Dio e gioisce dell'essere figlio di Dio mentre nei rapporti umani voi sapete benissimo che a un certo punto una persona anche a causa della vecchiaia certe volte il fatto di avere un pace a 90 anni a 80 anni diventa un impegno di carità diventa un impegno di sofferenza a volte si perde la mente a volte per esempio ci sono difficoltà fisiche ci sono problemi anche il cerevole abbadanti ci vuole questo quindi noi siamo appesantiti e quindi i rapporti padre figli madre figli sono sempre complicate è sempre così ma l'origine non è umana Gesù ci ha rivelato che lui è il figlio il figlio di Dio vi ricordate io non l'ho riportato qua Giovanni 1.1 in principio era il verbo il verbo era perso Dio e il verbo cioè sarebbe la parola di Dio che sarebbe Gesù il verbo era Kyrios era Dio il verbo era Dio da principio non c'è stato un momento in cui il padre è solo da sempre Dio è padre il vero padre dirà poi San Paolo in due corinzi nella seconda lettera di corinzi il padre da cui ogni paternità sulla terra prende il nome quindi chi è padre anche un sacerdote che deve essere un padre spirituale se vogliamo vivere il nostro ruolo di padre dobbiamo riferirci a Dio e dire padre come fai il padre tu perché io mi devo identificare a te che sei padre è così la madre per la madre è un po' più facile perché la Madonna ha incarnato per questo si chiama Santissima perché ha incarnato proprio il ruolo della madre nella Santissima Trinità è equiparabile allo Spirito Santo no? e allora la madre e noi abbiamo il Signore ci ha dato un modello perfetto di madre di donna che è Maria Santissima infatti alla fine della Bibbia nell'Apocalisse al capitolo 12 vi ricordate la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi con 12 stelle sul capo che è coronata da Dio ed eletta madre dell'umanità regina del cielo e della terra e sono cose importanti perché ci fanno capire che la vita che viviamo ha un riferimento nel cielo infatti Gesù glielo dice Pietro su di te io fonderò la mia chiesa e le cose le porte degli inferi non prevarranno e ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo cioè le nostre scelte incidono sul paradiso cioè tutto quello che facciamo ha un riferimento diretto al regno di Dio quindi quando finiremo questa vita se noi già per esempio coltiviamo il regno di Dio noi avremo delle sorprese perché vedremo Dio così com'è però già alcune cose le viviamo mentre siamo sulla terra cioè vedremo il Padre ma lo riconosceremo perché già sulla terra non so se vi ricordate Romani 8 San Paolo dice lo Spirito Santo dentro di noi grida Abba Padre noi se facciamo diamo voce allo Spirito Santo perché dentro di noi tante volte non c'è solo la voce dello Spirito tante volte c'è la voce dell'egoismo la voce delle paure quello che pensano gli uomini tutto grida dentro di noi ma se riuscissimo ad acquietare le altre voci se una persona riesce a dare meno importanza a tutte le voci umane che gridano dando spazio alla voce del Signore alla parola di Dio allo Spirito Santo dentro di sé sentirebbe proprio questo questa esperienza che Dio è mio Padre e io trovo pace in Dio Padre tante volte noi non troviamo pace in nessuno sulla terra ma come Gesù troviamo pace nel Padre in Dio Padre tutti abbiamo bisogno di questo Padre i padri umani hanno fatto il loro ruolo noi dal punto di vista umano facciamo quello che possiamo ma nessuno può fare a meno di Dio Padre fu l'esperienza anche di San Francesco come vi ricordate quando il suo rapporto con suo padre si incrinò San Francesco disse io ho un Padre in cielo da ora in poi posso dire Padre nostro che sei nei cieli sono cose importanti che incidono nella vita se andiamo avanti un pochino ecco altre espressioni sono figlio di Dio e figlio certe volte semplicemente viene definito Gesù il figlio il figlio andiamo avanti Giovanni 19 guardate Pilato compose anche l'iscrizione quando crocifisse Gesù e la fece porre sulla croce vi era scritto Gesù il Nazareno il re dei giudei molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove era scritto fu crocifisso era vicino alla città era scritta in ebraico in latino e in greco questo era un modo di dire in tutte le lingue più importanti di allora quindi ebraico latino e greco per dire si proclamava al mondo che Gesù il Nazareno era il re dei giudei di cui avevano parlato perché loro si consideravano popolo di Dio quindi il re dei giudei era Dio perché il vero il vero re del popolo ebraico era Dio loro erano il popolo di Dio questo ha una certa importanza perché poi i nemici di Gesù gli dicono a Pilato no non scrivere così ma scrivi lui si è definito il re dei giudei e Pilato vi ricordate che disse quello che è scritto ormai è scritto per cui per un errore chiamiamolo così viene offerta al mondo la vera definizione di Gesù Gesù Nazareno re dei giudei poi dobbiamo dire che andò in uso nei secoli la definizione di Gesù come Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù è il nome che l'angelo rivelò a Maria vi ricordate quando l'angelo arrivò da Maria disse tuo figlio si chiamerà Yeshua Gesù perché salverà il mondo infatti significa salvatore quello che noi diciamo in siciliano salvatore il salvatore per gli ebrei è importante definire anche il nome perché il nome per loro per noi non è così ma per gli ebrei il nome dare una persona era come l'etichetta messa su una bottiglia di vino se il vino è l'ambrusco fuori c'è scritto l'ambrusco infatti quando Gesù cambia il ruolo a Pietro vi siete accorti da Simone lo chiamò Pietro Pietra questo è importante Matteo si chiamava Levi ma si chiamerà Matteo si cambia il nome perché il nome indica la missione di una persona il ruolo di una persona anche Giovanni Battista vi ricordate quando nasce Giovanni Battista i genitori dicono le persone dicono quelle nome date a vostro figlio e loro dicono si chiamerà Giovanni dice ma non c'è nessuno che si chiama in famiglia tua Giovanni ma si chiamerà Giovanni perché perché si riferiva al modo con cui Dio aveva dato a loro un figlio nella vecchiaia e quindi doveva indicare il nome il tipo di nascita il tipo di identità bello sarebbe se quando nasce un bambino i genitori si mettessero a pregare durante i nove mesi per chiedere a Dio di dare ispirare un nome che possa essere un programma di vita per il figlio ma non si fa così perché oggi il nome la scelta del nome tante volte è perché perché c'è un attore perché spero ora si usa qua in campagna una volta il nome era un'assuntina e cose ora è Kevin in te campagne come si chiama suo figlio Kevin perché ci sono gli attori le cose così c'è qualche telenovela e allora ecco è diventato banale per noi dare un nome però nel caso nella tradizione biblica il nome doveva avere un riferimento al ruolo infatti l'angelo giustamente dice alla Madonna tuo figlio si chiamerà Yeshua perché sarà un salvatore del mondo salverà il mondo e per questo Gesù Cristo che sembra nome e cognome tante volte perché tante volte mi ricordo quando ero a Napoli chiedevo ai bambini che significa Gesù Cristo loro dicevano nome e cognome Gesù di nome e Cristo di cognome ma non è così Cristo è il ruolo Gesù è il nome che ha avuto come uomo Gesù Cristo infatti sarebbe meglio dire Gesù il Cristo cioè colui che è stato messia del Signore ha realizzato la salvezza di Dio se andiamo un altro dieci minuti avanti e poi celebriamo la messa Dio ha regnato dal legno questa è un'espressione dei primi cristiani per indicare che il legno della croce non era più una maledizione anche oggi se ci farete caso nella seconda lettura che è molto importante tutte le letture sono importanti però è molto indicatrice della logica di Dio tenete fisso lo sguardo su Gesù lui ha accettato la croce non come una vergogna ma ha vissuto la croce come un altare di amore e questo è in fondo la chiamata che abbiamo tutti le croci che abbiamo dobbiamo permettere che siano il luogo dove Dio possa regnare quindi invece di far regnare la disperazione invece di far regnare lo scoraggiamento oppure la mancanza di fede a un certo punto la croce è il luogo dove Dio manifesta la sua gloria questo è molto importante e i primi cristiani dicevano questo proprio così Dio ha regnato ecco se metti prima Dio ha regnato dal legno non ha regnato dal trono Dio regna dalla croce e infatti San Giovanni la chiama croce gloriosa non so se vi ricordate in San Giovanni quando dice Gesù quando il figlio dell'uomo sarà innalzato attirerà tutti a sé cioè il suo fascino possiamo dire deve nascere dal fatto che Gesù muore in croce e quello che è la vergogna più grande il dolore più grande diventa il fascino di colui che ama fino a morire quindi cambia un po' il senso delle cose cioè Gesù crocifisso splende d'amore le piaghe di Gesù sono gioielli d'amore la sofferenza di Gesù è possiamo dire il capolavoro dell'amore l'amore più grande non sta nel fare qualche cosa ma nel morire per gli altri morire sacrificarsi per gli altri Gesù l'ha fatto diventare la croce gloriosa quindi il trono non è più il trono di un re il trono del Signore è la croce del Signore dove splende l'amore più alto l'amore più grande una croce luminosa è una logica che umanamente noi non la possiamo conquistare noi la possiamo accogliere dallo Spirito Santo se glielo chiediamo lo Spirito Santo ce la può dare se noi chiediamo la sapienza della croce lo Spirito Santo prima ci adatta sapete prima ci purifica ci cambia e poi ce la dà ma dobbiamo insistere se una persona insiste se una persona non la chiede è difficile che la possa avere ma se una persona fa la scelta di dire Signore dammi la sapienza della croce e questa sapienza della croce in effetti noi la possiamo ricevere come un dono però lui prepara il terreno per riceverlo perché se una persona non è preparata non lo riesce a capire la sapienza della croce perché la sapienza della croce è proprio il segreto della vittoria sul male perché la croce col suo amore annienta il potere del male il male viene distrutto quando viene trasformato in amore quindi tutta la cattiveria umana si è abbattuta su Gesù Gesù quando ha accolto la cattiveria umana l'ha trasformata con lo Spirito Santo in un atto d'amore e quell'atto d'amore è stata la fine del male anche noi se vogliamo vincere il male dobbiamo trasformarlo in noi io mi immagino sempre una cosa forse un po' banale quello che vi sto dicendo visto che che parliamo qua tante volte di cose umane io mi immagino che questo è simile a un termo valorizzatore in cui tu metti a munnizza e lo trasforma in energia immaginate se ci fosse una macchina che tutti i montagni di munnizza che inquinano il mondo li mettiamo là dentro lui li seleziona e li trasforma tutti al 100% in energia fosse la ricchezza immaginate che ci fosse una macchina del genere che tu ci metti tutta la sporcizia la munnizza tutte cose lui seleziona tutto e dall'altra parte esce energia pulita ecco mi immagino che la croce a livello simbolico è un po' come questo termo valorizzatore che a un certo punto noi tutte le cattiverie le diamo a Gesù e lui li trasforma in salvezza se noi lo accogliamo in effetti lui ci salva così con la sua croce e ci coinvolge perché anche noi visto che viviamo in lui abbiamo da lui questo potere cioè una persona mi fa una cattiveria la vita mi dà un problema e io con l'aiuto di Gesù lo trasformo in una energia di salvezza che vale per il mondo intero quindi il male si scaglia contro di me e lo Spirito Santo mi dà il potere di trasformare quel male in un atto d'amore che salva il mondo e mi unisco a Gesù in questo e tutto il male si ricicla diciamo al 100% per realizzare il mondo futuro il mondo nuovo che poi non è tanto futuro perché è già presente nell'Eucaristia ma il mondo perfetto dell'amore non so se questo concetto riesce a comunicare quello che vi voglio dire ma Gesù ha realizzato la vittoria con questa trasformazione prima di Gesù invece loro pensavano come vi dicevo che Dio avrebbe salvato il mondo distruggendo il male no lui lo ha trasformato il male per il bene di tutti quindi ha un po' spiazzato tutti il Signore infatti vi ricordate che da Gesù in poi non c'è più bisogno di offrire noi agnelli cose perché Gesù ha detto l'agnello sono io se permettete non c'è più bisogno che voi mi offrite niente perché io offro la mia vita per voi non siete voi che mi date qualcosa a me perché sapete prima di Gesù erano contenti perché le persone più ricche invece di dare un capretto davano un vitello e quello dice ah io posso di più do di più a Dio perché vi ricordate che i poveri Giuseppe e Maria vi ricordate che cosa dietro due colombi perché siccome erano poverazzi e allora i poveri non potevano comprare un agnello non potevano comprare un bue e ci offrivano due colombe che fuori del tempio vendevano questi animali e le persone le offrivano a Dio dicendo signore io ti offro questo allora il più ricco diceva signore ma io ti offro invece due vitelli e allora c'erano gli olocausti c'erano i sacrifici per esempio i conviviali c'erano tanti tipi di uccisioni che valorizzavano tante espressioni ecco quello è un altro ambito però si offrivano queste cose arriva Gesù Cristo e dice azzeriamo tutto fino a ora abbiamo solo preparato in realtà il vero agnello sono io e mi offro io come un agnello immolato non c'è bisogno che voi diede qualcosa a Dio è Dio che dà la vita per voi quindi inverte il senso religioso no? non siamo noi uomini a offrire a Dio ma noi dobbiamo accogliere il dono che Dio fa a noi infatti stasera stesso io vi dirò beati gli invitati alla cena del Signore perché noi siamo invitati non siamo noi che abbiamo diciamo preso l'iniziativa andiamo avanti nel Vangelo di San Marco figlio dell'uomo solo nel Vangelo viene ripetuto quattordici volte è una delle espressioni più ricorrenti figlio dell'uomo che significa semplicemente uomo ma l'espressione figlio dell'uomo viene presa da Daniele dal libro di Daniele nel libro di Daniele Daniele vede il paradiso e si stupisce come mai in paradiso c'è un figlio dell'uomo c'è scritto come mai allora giustamente pensavano che il mondo di Dio appartenesse solo a Dio e che non aveva niente a che vedere con le cose degli uomini per cui Daniele il profeta Daniele si stupisce e dice vedo in Dio un figlio dell'uomo cioè una persona che ha la forma di uomo che ha le sembianze umane questa espressione figlio dell'uomo che ripeto che significa semplicemente uomo un uomo un figlio degli uomini e viene ripresa da Gesù per indicare che lui si è fatto veramente uomo quindi è Dio che si è fatto veramente uomo poi nelle prossime volte lo analizzeremo in maniera più se vuole Dio più dettagliata ma intanto scorriamo un poco per finire oggi allora negli atti degli apostoli c'è un'espressione di santo Stefano primo martire la persona che per primo ha dato la vita per Gesù e questo è vedete che per noi è una disgrazia però nei primi secoli veniva considerato da molti cristiani un onore dare la vita per Gesù non solo vivere per Cristo ma anche morire per Cristo capisco che la nostra mentalità viene sconvolta da questa mentalità però noi veneriamo Santa Lucia Sant'Agata Santa Febbroni a patti Santa Ninfa tante sante anche siciliane erano delle ragazze che hanno sconvolto il mondo di allora perché invece di aver paura di morire quando gli hanno detto o rinneghi il cristianesimo perché era fuori legge oppure ti uccidiamo allora loro dicevano per me è un onore morire per Gesù perché io già vivo per Gesù dare la vita per Gesù per me è un onore uccidimi sapete bisogna avere un grande amore verso Gesù e credere nella vita eterna realmente per capire che vale la pena non solo vivere per Cristo ma morire per Cristo anche perché loro si facevano il conto lo stesso noi dobbiamo morire e quindi morire un po' in anticipo per Cristo è un onore e infatti hanno sconvolto il mondo pagano allora santo no no leggo prima se metti prima ecco e disse ecco contemplo guardate questo perché ve lo riporto perché dice il figlio dell'uomo ecco contemplo i cieli aperti è il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio quindi santo Stefano rivede la stessa immagine che ha visto il profeta Daniele quindi riprende mentre sta morendo che lo stavano uccidendo a colpi di pietra perché era stato purtroppo ucciso lapidato a colpi di pietra è una cosa terribile ma l'atrocità dell'uomo è terribile uccidere poi perché perché semplicemente era un cristiano e lui dice io contemplo c'è vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio cioè Gesù come figlio dell'uomo la stessa immagine che aveva visto Daniele un'altra espressione vedete Giovanni Marco 14 Gesù rispose io lo sono gli hanno detto tu sei il Cristo lui dice io lo sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo quindi quando Gesù gli chiedono chi è e gli dicono sei tu il messia io lo sono e voi vedrete il figlio dell'uomo cioè io uomo Dio che sto nel trono regale di Dio quindi sto vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza del Dio e venire con le nubi del cielo penso che ci sia un ultimo passo ecco Marco 2 a un certo punto Gesù concludiamo con questo passo oggi Gesù parla dell'autorità che ha sulla legge la legge definiva il sabato perché il sabato ebraico era stato definito dalla legge di Dio io non ho il tempo adesso posso dirvi quanto fu importante la legge di Dio perché la legge di Dio definì la difesa dell'uomo prima della legge che Dio ha dato con la festa del sabato voi pensate è stato Dio a dire che far festa una volta alla settimana era un obbligo perché prima non si faceva festa si può dire mai la gente lavorava anzi facevano festa solo i padroni le persone che lavoravano prima della legge ebraica lavoravano sempre non c'era un'interruzione è stato Dio a dire nessuno deve lavorare il sabato e quindi la legge di Mosè aveva stabilito che un giorno pure le persone che erano dipendenti o anche gli schiavi non dovevano lavorare non potevano lavorare perché dovevano riposarsi e fare festa se ci fate caso molte persone che si sono allontanate da Dio oggi come oggi non fanno cioè fanno festa quando uonoide perché tanta gente lavora pure il sabato lavora pure la domenica e tanta gente si vede il sabato e la domenica fa quei lavori che non può fare da lunedì a venerdì quindi il concetto della festa si è un po' anacquato e anche questo è un indice negativo per noi perché il fatto che una persona interrompa la settimana e dice oggi è un giorno in cui non devo pensare alle cose umane a che serve a pensare all'ottavo giorno cioè al giorno che vivremo per sempre perché quando noi passerà questa vita noi vivremo una vita di festa per noi la domenica per l'orevoire il sabato vi ricordate perché è stata trasformata alla domenica perché Gesù è risorto il giorno dopo il sabato e siccome la risurrezione è il giorno della vittoria sul male per noi cristiani invece del sabato festeggiamo la domenica ora è importante per noi capire che la domenica è il giorno del Signore è un giorno diverso dagli altri perché ci ricorda il nostro destino futuro in paradiso noi non lavoreremo in paradiso noi faremo festa sempre in paradiso gioiremo sempre dell'amore il paradiso è possiamo dire la realizzazione dell'uomo nella felicità piena cioè noi ci incontreremo in paradiso e uno dirà all'altro come stai benissimo mi sento un pace eterno mi sento bene non ho bisogno di niente pare una battuta ma è così il giorno il Signore ci ha creati non per soffrire e infatti in questo mondo non comanda Dio noi nel pace noce che diciamo Signore sia fatta la tua volontà come si fa in cielo si faccia sulla terra che non se ne fa volontà di Dio infatti il male è cominciato per non aver fatto la volontà di Dio per questo il Signore ora ha fatto di tutto ha dato la vita perché noi potessimo collaborando con Lui trasformare il male in bene e vincere il male col bene ma salvare i peccatori e questo è lo scopo di Dio che noi collaboriamo con Lui con la croce e risurrezione di Gesù per salvare i peccatori e allora diceva loro il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato per fare capire siccome la legge il sabato l'aveva dato Dio che il figlio dell'uomo ha l'autorità di Dio di essere superiore alla legge che vuol dire che è Dio è molto importante questo fatto perché loro pensavano invece che l'uomo fosse fatto per il sabato per osservare la legge no no è il contrario è la legge che è a servizio dell'uomo non l'uomo per la legge non so se riesco a farvi capire non è che noi siamo uomini perché osserviamo la legge no la legge è una regola che deve favorire la vita dell'uomo ma l'uomo non può essere schiavo della legge e la legge che è usata bene per amore serve a migliorare l'uomo e invece loro pensavano che l'uomo dovesse essere al servizio della legge e più osservava la legge più era gradito a Dio no Gesù rispiegò Dio non ha fatto la legge per condizionare l'uomo Dio ha fatto la legge per aiutare l'uomo a liberarsi dal male e quindi la legge è al servizio dell'uomo non è l'uomo al servizio del sabato la legge e il sabato in questo caso è la stessa cosa